Brillante operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara, avete ritrovato in casa di un 29enne incensurato 13 kg di droga. Come è nata questa indagine? Il sequestro nasce da una perquisizione che abbiamo effettuato ieri pomeriggio a coronamento di un'attività investigativa, diciamo io, in modo di definirla di vecchio stampo, cioè i militari proiettati in mezzo alle piazze di spaccio, in mezzo alla gente, nei locali di aggregazione, nei posti dove maggiormente i giovani si concentrano e sono riusciti a individuare un 4-5 ragazzi, che stiamo tuttora attenzionando, di buona famiglia, incensurati, che però hanno cominciato a prendere contatti con qualche esponente del mondo dello spaccio. Abbiamo fatto diversi servizi di osservazione, peninamento, di controllo e dopo circa due settimane, che abbiamo attenzionato in particolare la casa di questo ragazzo e abbiamo notato questo via vai continuo di giovani, ci è venuto chiaramente il forte sospetto che ci fosse un movimento all'interno dell'abitazione, intuizione che è stata premiata dal brillante ritrovamento e quindi abbiamo confermato tutti i nostri sforzi. Oltre all'hashish e alla marihuana avete rinvenuto una ventina di grammi di una sostanza molto simile all'extasi, molto pericolosa per la salute umana. Sì, sono 20 grammi di MDMA, che è una sostanza sintetica, di quelle che definiamo sintetiche, al contrario della marihuana, dell'hashish e di altre sostanze di derivazione vegetale, che proprio per la loro caratteristica sono particolarmente lesive dal punto di vista tossicologico, quindi provocano dei danni notevolmente superiori. Ora la quantità era sicuramente minore e probabile che fosse magari soltanto un campione di prova per eventuali e probabili spedizioni future. Indagini che non sono concluse perché ora state cercando di capire da dove provenisse questa droga e a quale mercato fosse destinata. Esattamente, le indagini assolutamente continueranno anche perché il confezionamento della stupefacente è molto particolare. Ci sono riportate sulle confezioni dei nomi che vengono associati probabilmente alla qualità della sostanza rinvenuta e quindi hanno un potere anche di, diciamo così, tossicologico diverso. Ci saranno diverse gradazioni di THC e dobbiamo capire intanto da dove arriva perché è una varietà molto diversa e secondo se fosse destinata al mercato pescarese o se fosse semplicemente in transito verso altri posti.